I marciapiedi per non vedenti a Via Croce sono solo il primo passo del piano di riqualificazione urbana varato dall'esecutivo del sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano che prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti sul territorio. Per i marciapiedi di Croce è stato utilizzato il sistema LOGES, acronimo di linea di orientamento, guida e sicurezza, ovvero di piastrelle che consentono ai non vedenti e ai povedenti o l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e dei pericoli. È un primo tratto di riqualificazione della zona Taverna e Croce, noi lì non volemmo realizzare un intervento spot e dunque preferimmo col consorzio di bonifica perché sotto insistono dei canali irriguidi smessi, preferimmo fare un intervento complessivo a spese nostre come comune. Questo però è soltanto un primo tratto nell'ottica di un più ampio intervento che andrà in gara in questo mese alla stazione Unica Appaltante che prevede tutta la riqualificazione della zona di Taverna e Croce Malloni. La riqualificazione consiste non soltanto in una realizzazione di marciapiedi in pietra lavica, con tratti di basolato nelle parti architettoniche storiche della frazione di Taverna e Croce, ma prevederà anche la riqualificazione della pubblica illuminazione con un nuovo impianto e la sistemazione dei sottoservizi sia idraulici che fognari. Dunque un intervento complessivo che consentirà anche a questa frazione bistrattata del nostro territorio di recuperare la sua dignità. Insieme a questo abbiamo l'altro lavoro che oramai è in dirittura dall'IVA pronto a diventare cantiere che è la parte di Via Vincenzo Russo, un intervento sempre di riqualificazione e efficientamento energetico. Quindi andiamo a realizzare un nuovo impianto a destra e a sinistra, quindi su tutti e due lati dei marciapiedi, con previsione anche di sistemazione degli stessi marciapiedi. Un altro intervento che abbiamo in corso di progettazione esecutiva e che dunque credo nel 2017 vedremo come città realizzato è quello di Pareti-Pucciano, un intervento che consentirà non soltanto di riqualificare strade e marciapiedi, ma anche di mettere in collegamento le aree archeologiche che insistono su quella parte di territorio. Per quanto riguarda poi gli interventi che avevamo avviato, che era un piano di riqualificazione dei fontanili esistenti sul nostro territorio, abbiamo provveduto alla sistemazione dell'area antistante il centro sociale. Stasera finalmente credo che vedremo insieme ai nostri cittadini l'accensione della fontana di Piazzetta Filauro che fu oggetto di restauro e adesso abbiamo installato anche dei corpi luminosi che renderanno ancora più bello il passaggio di quel tratto della città. Grazie. 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 Grazie.